Incidente automoto oggi pomeriggio alle 15.50 in Viale Europa. Lo scontro è avvenuto davanti al distributore AP. Le cause sono in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale. Da una prima ricostruzione il motociclista, un albanese di 43 anni, ha urtato la Fiat Punto che usciva dall'area di servizio, girando a sinistra in direzione mare. Il conducente dell'auto si era appena immesso nella corsia di marcia quando ha sentito la botta della moto nella parte posteriore destra e ha visto motoconducente sbalzare nel campo adiacente. Sul posto sono arrivate due mezzi del 118, la medicalizzata e l'ambulanza, che dopo la valutazione dal medico hanno caricato il ferito con diversi traumi e lo hanno portato a Bufallini di Cesena. Forti rallentamenti del traffico, già particolarmente intenso su Viale Europa, visto l'orario e una delle due corsie occupate dalla Punto e dalle operazioni di rilievo dell'incidente.